Benvenuti a ISEE 2018, siamo nello stand di SHARP e vi presento in breve quelle che sono le soluzioni ai prodotti innovativi presentati da SHARP per questa edizione. Il prodotto di punta di SHARP di quest'anno è il monitor 8K che rappresenta assolutamente una novità per il mercato europeo, ad aprile SHARP introduce il primo modello di una gamma composta da diversi tagli, partiamo con un modello da 70 pollici, l'8K SHARP punta a spingerlo perché diventi, così come è arrivato in Giappone ad essere, il prodotto di riferimento per il mercato broadcasting. Entro fine anno sarà presentato proprio per creare contenuti anche una telecamera in 8K e quindi si cercherà di spingere tantissimo questa nuova risoluzione che in Giappone oramai si è affermato nel mercato della televisione e del broadcasting. Altra novità di punta che ci differenzia sostanzialmente da tutti gli altri competitor è rappresentato dal VDWall da 70 pollici, i competitor sono fermi a un taglio a 55 pollici, quindi SHARP da quest'anno abbina a una gamma di 60 pollici, VDWall da 70 pollici con un bezel di 4,5 mm. Da sempre leader nel mercato corporate dove abbiamo raggiunto una quota del 13%, SHARP continua a presentare forte della forza di Foxconn che dall'anno scorso è diventato azionista di maggioranza dell'azienda giapponese, tutta una serie di prodotti interattivi. Presentiamo quest'anno un monitor a 70 pollici con risoluzione 4K capacitivo con la possibilità di installazione in modalità orizzontale e verticale, soprattutto face up, face down. Il prodotto viene fornito come tutti gli altri prodotti della serie Big Pad con tutta una serie di soluzioni software a corredo e oggettivamente non possiamo che dire oggi che il PN70 TH5 di SHARP rappresenti l'eccellenza e il massimo per quanto riguarda le soluzioni interattive. Tra le altre soluzioni presentate, sempre in ambito corporate, soluzioni interattive, il lancio del nuovo modello da 50 pollici di SHARP che ha a corredo, come tutti gli altri prodotti della serie Big Pad, tutta una serie di soluzioni per interattività condivisa con dispositivi portatili. Il PN50 TC1 quindi è la novità per il mercato corporate, soprattutto legato alle piccole sale e riunioni che permettono di fare attività di formazione ma anche di co-working.